Case di comunità anche a Raffadali e Cattolica Araclea è quanto emerso in Commissione Salute dell'ARS, presieduta da Margherita Larocca Ruvolo, nel corso della nuova audizione dell'assessore Ruggero Razza sulla programmazione regionale dei fondi del PNRR destinati al settore sanitario. L'assessore ha dichiarato oggi pomeriggio Margherita Larocca Ruvolo ha presentato il nuovo piano della rete sanitaria e territoriale che sarà finanziato con i fondi del PNRR con le modifiche apportate in considerazione delle richieste avanzate dalla Commissione Salute nelle precedenti audizioni. Tra le novità per quanto riguarda la provincia di Agrigento, l'inserimento di tre progetti per case di comunità a Cattolica Araclea, Cammarata e Raffadali che non erano presenti nella prima bozza del piano. La Presidente della Commissione Salute sostiene che per Sciacca e Ribera la situazione resta invariata, nelle due città verranno realizzate le case di comunità. Il nuovo piano, ha concluso Margherita Larocca Ruvolo, ha tenuto conto dei rilievi fatti dalla Commissione e dalla Presidente che in queste settimane hanno lavorato ascoltando le stanze provenienti dei territori. Nell'Agrigentino sono previste 18 case di comunità ad Agrigento, Aragona, Bivona, Cammarata, Canicattica, Sertermini, Cattolica Araclea, Favara, Licata, Menfi, Naro, Palma di Montechiaro, Portempedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Ribera e Sciacca. Quattro le centrali operative e territoriali ad Agrigento, Canicattica, Licata e Ribera. Tre invece gli ospedali di comunità ad Agrigento, Bivona e Santa Margherita a Belice.